Una delle cose che preferisco fare a Londra è un giro sul London Eye. In una giornata limpida puoi vedere a una distanza di 40 km in tutte le direzioni perché ti trovi sulla più grande ruota panoramica che sia mai stata costruita. Sei sigillato in una delle 32 capsule, insieme agli sconosciuti che erano vicino a te in coda, e quando si chiudono le porte il suono della città rimane chiuso fuori. Incominci a salire. Le capsule sono fatte di vetro e d'acciaio e sono appese al bordo della ruota. Quando la ruota gira, le capsule sfruttano la forza di gravità per restare diritte. Ci vogliono 30 minuti per fare un giro completo. Nel punto più alto del nostro giro, Cat dice che Londra sembra una città giocattolo e che le macchine nelle strade sotto di noi sembrano palline di un abaco che vanno da sinistra a destra, si fermano e ripartono. Io penso che Londra sembra Londra e le macchine sembrano macchine, sono più piccole. La cosa più bella da guardare dall'assù è il Tamigi. Puoi vedere come curva e si aggroviglia, mentre quando sei a terra pensi che si ha diritto. La seconda cosa più bella da guardare sono i raggi e i tiranti d'acciaio della ruota. Ti trovi sull'unica struttura sospesa di questo tipo del mondo. È progettata come una gigantesca ruota di bicicletta nel cielo, sostenuta da un'enorme struttura a forma di A. È interessante anche guardare le capsule da entrambi i lati della tua. Vedi degli sconosciuti che guardano fuori, proprio come stai facendo tu. La capsula che sta sopra diventa più bassa della tua e la capsula che sta sotto diventa più alta. Devi chiudere gli occhi perché provi una strana sensazione che ti sale per l'esofago. Sei contento che il movimento sia lento e regolare. E poi la tua capsula arriva a terra e sei triste perché non vuoi che il viaggio finisca. Ti piacerebbe restare lì e fare un altro giro, ma non è permesso. Allora scendi e ti senti come un astronauta tornato dallo spazio, un po' più leggero di come eri prima. Abbiamo portato Salim sulla ruota perché non c'era mai salito prima. Uno sconosciuto si è avvicinato a noi in coda e ci ha offerto un biglietto omaggio. Lo abbiamo accettato e lo abbiamo dato a Salim. Non avremmo dovuto farlo, ma l'abbiamo fatto. Salim è salito da solo alle 11.32 del 24 maggio e sarebbe dovuto scendere alle 12.02 dello stesso giorno. Si è girato e ha salutato me e Kat mentre stava salendo, ma non si riusciva a vedere la sua faccia, soltanto la sua ombra. Lo hanno chiuso dentro con altre 20 persone che non conoscevamo. Io e Kat abbiamo seguito con lo sguardo la capsula di Salim durante la sua orbita. Quando è arrivata nel punto più alto abbiamo detto insieme E Kat si è messa a ridere e io pure. È per questo che sapevamo che stavamo seguendo quella giusta. Abbiamo visto le persone riunirsi mentre la capsula scendeva, tutti rivolti a nord-est verso la fotocamera automatica per la foto ricordo. erano soltanto pezzi scuri di giacche, gambe, vestiti e maniche. Poi la capsula è arrivata a terra. Le porte si sono aperte e i passeggeri sono usciti a gruppi di due o tre. Si sono allontanati in diverse direzioni, le loro facce erano sorridenti, le loro strade probabilmente non si sarebbero mai più incrociate. Ma Salim non era in mezzo a loro. Abbiamo aspettato la capsula seguente e quella dopo, ma lui non è comparso. Da qualche parte, in qualche modo, nei 30 minuti del giro sulla ruota, nella sua capsula sigillata, è svanito dalla faccia della terra. Ecco come il fatto di avere uno strano cervello su cui gira un sistema operativo diverso da quello delle altre persone mi ha aiutato a capire che cosa è successo.